Jazz, rock e indie sono solo alcuni dei suoni che si possono ascoltare dal vivo ogni venerdì sera al pub Old Square di Cagliari. Ha preso il via infatti Idiotech, la rassegna per ben emergenti con uno scopo oltre la musica, l'ecologia. Chi raggiunge il locale in bicicletta o in skate infatti ha diritto allo sconto sulle consumazioni. Il progetto Idiotech è un contenitore fruibile da tutti, gratuito, al centro di Cagliari, che racchiude arte, musica e spettacolo. Tutti i venerdì si esibiscono gruppi live, rock band o band di musica elettronica, DJ e performers. E anche molti artisti, writer, pittori, disegnatori e tatuatori che vengono dalla scena cagliaritana o dalla scena sarda o addirittura dalla scena europea. Si cerca di proporre qualcosa di nuovo, chiaramente, di mischiare più scene possibili e più artisti possibili. L'artista di questa sera si chiama Dayno Kova, è un cantautore sardo, molto bravo e riconosciuto da poco. Anche il suo video girava su MTV, si esibisce con un duo. Prossimamente avremo altri gruppi che spaziano dall'indie al rock al country e al jazz. Uno degli obiettivi di Ideoteca è quello di mischiare il più pubblico possibile. Sicuramente mettendo il concerto in un altro contesto e la pittura in un altro contesto differente da quello che può essere quello del writing o quello di una mostra. Un'altra cosa molto importante che fa Ideoteca è far crescere l'utilizzo di mezzi ecologici in città. Infatti ci sono degli sconti sulle consumazioni per chi arriva in skateboard e bicicletta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.